Procediamo, perché fa presto. Un applauso e un taglio. Voglio sottolineare che questa breve cerimonia è volta a inaugurare una parte di segno di investimenti di ben 33 milioni che qualificherà a compimento questo aeroporto come uno dei migliori, più moderni, attrezzati aeroporti del nostro paese, naturalmente nella fascia di mercato di riferimento che è quello degli aeroporti regionali. Poco fa è stato anche sottolineato il miglioramento dei conti della saga per quanto riguarda l'aeroporto d'Abruzzo. Sì, voglio richiamare a tutta l'attenzione e invitando anche tutto l'opinione pubblica e anche gli addetti ai lavori a consultare il nostro sito, a consultare i documenti ufficiali. Per esempio il bilancio 2015 già dimostrava che noi avevamo ridotto di ben 2 milioni e 200 mila euro i costi su un totale di poco, intorno agli 8-9 milioni. Sfido qualunque manager di grande elevatura a livello internazionale aver saputo fare attrettanto in soli 10 mesi di gestione. È evidente che la razionalizzazione dell'attività gestionale e il concreto e non trascurabile supporto da parte dell'azionista di controllo hanno consentito di traguardare questi risultati così significativi. L'aeroporto d'Abruzzo resta l'infrastruttura più importante della regione e la presenza di tanti amministratori delle varie province lo sta a testimoniare. Assolutamente sì e questo è anche un bel esempio di coesione della nostra comunità regionale è un'emplematica testimonianza del saper fare sistema e dunque occorre che si tesaurizzi anche per il significato che assume per altre anche possibili ambizioni della nostra regione questa valenza, cioè fare sistema e individuare per ciascuna emergenza significativa regionale ciò che può essere e dare come valore giunto al benessere dell'intera comunità regionale. Io devo riconoscere una bravura di gestione in capo all'attuale Consiglio di Amministrazione che è stata rilevata anche da ENAC che è l'autorità di vigilanza ma ci sono i numeri che parlano il successo anche con Ryanair dal punto di vista del superamento della norma i lavori che si sono fatti, quelli che si faranno, la conquista dei fondi del master plan che faranno in modo che l'aeroporto d'Abruzzo diventi una vera infrastruttura di accesso al cielo per superare le grandi lontananze. Io mi complimento con tutti quelli che hanno garantito questa dovizia di governo quotidiano.